Alessandro Casale, al Lago Negro nasce il Comitato per il No alla riforma costituzionale. Perché nasce e a chi si ispira? Il Comitato nasce perché persone di diversa estrazione si riconoscono nel No alla riforma e costituzionale nel pensiero di Giorgio Lapira, in quanto la riforma costituzionale non tiene conto della continua violazione dei diritti umani che vengono fatti nell'attuale momento storico. Diritti umani per cui Giorgio Lapira aveva fatto l'azione politica propria. Infatti Giorgio Lapira, democristiano, sottosegretario al Ministero del Lavoro, chiedo scusa, sindaco di Firenze, padre costituente e politico di profondissima sensibilità religiosa, svolge un'opera apprezzata nell'ambito della Commissione dei 75. Specialmente nella redazione dei principi fondamentali della Costituzione, tant'è che l'articolo 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce l'inviolabilità dei diritti dell'uomo, si ispira alla sua proposta iniziale. Tra gli aspetti negativi di questa riforma proposta ce n'è uno in particolare, quale? L'aspetto negativo, forse più preponderante, che balza soprattutto agli occhi, è il bicameralismo fatto in questo modo, cioè la riforma del Senato, il Senato che viene composto soprattutto da sindaci e da consiglieri regionali, pertanto gente che è stata votata dal popolo non per fare il senatore, ma per fare altre competenze politiche. Ma pertanto si viene a creare una specie di pasticcio che si potrebbe completamente togliere se dal sistema bicamerale perfetto si passasse al sistema monocamerale, cioè praticamente ci fosse soltanto il Parlamento, i deputati a legiferare. Da qui al voto farete degli incontri al Lago Negro per promuovere il no o anche dei confronti con il sì? Come vi avvicinerete alla data del voto? Sì, il Comitato si prefigge di fare delle assemblee, delle conferenze, dei dibattiti, che abbiano come oggetto soprattutto gli articoli che sono oggetto della riforma. A questi dibattiti verranno invitate persone giuriste di chiara fama proprio per avere una situazione più chiara.